Ciao, sono Maurizio Crozza e voglio dirti una cosa. Ogni anno la Toscana è depredata dalla sua terra stessa. Ogni giorno un po' di Toscana muore. Forse per gli incendi? No, no, no. Forse per i saccheggi? No, no, no. Forse perché? No, no, no. La Toscana muore perché ogni giorno qualcuno porta via un sasso. Se ognuno di noi portasse via un sasso, la Toscana si espanderebbe in tutto il mondo e nessuno potrebbe riconoscere più la Toscana, che sarebbe ormai in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo si potrebbe chiamare Toscana. Quindi la Toscana non esisterebbe più. Non portare via un sasso dalla Toscana perché altrimenti non sappiamo più dove era Toscana. Ciao, sono Maurizio Crozza. Ogni anno in Toscana ne sparisce circa un pochettino. Scusa, 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 scusa. Quest'anno la Toscana è 52 metri sotto il livello normale della sua toscanità perché i sassi sono stati portati via in tutto fretta così, come se nulla fosse. Non portare via il sasso dalla Toscana, altrimenti la Toscana non la riconosceremo più. È una campagna per la Toscana in Italia.